Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono BertaFarmer02 e oggi siamo a Rio Freddo in compagnia di tutti i nostri miei amici, mi sono scordato di iniziare a vloggare però stiamo insomma abbiamo fatto già tutta la pista l'abbiamo battuta qui c'è il mio amicatore e adesso c'è anche Nuti che è davanti adesso ci sono andati a fregare da bere e anche lui c'è una due piene tieni nascondi questa e in pratica vi faremo vedere in questo video un po di sciate le peggio le peggio combinate dico bene dai quindi raga ci vediamo dopo durante durante qualche rampa qualche sciata fatta un po verso dai a dopo col bob oh ragazzi oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.